benvenuti nella cucina della redazione di cook oggi è con noi lo chef marco sacco due stelle michelin al piccolo lago di verbania un luogo magico sulla sponda occidentale del lago maggiore sì ma proprio così è anche il posto dove sono nato quindi ho iniziato a cucinare lì quando mio padre mi ha tirato su mi ha fatto vedere questa stufa e ha detto pa io farò il cuoco da grande e oggi cosa prepariamo oggi prepariamo il piatto simbolo italiano nel mondo quindi o è pizza o è tiramisù o è carbonara la carbonara che diventa piemontese quindi lasciamo la parte laziale diventa piemontese per cui il grana il gin il prosciutto crudo della valle vigezzo lasciando stare il guanciale e si trasforma e diventa giocosa noi in cucina la prepariamo fino a un certo punto in poi come per magia il cliente chiude il piatto diventa un po cuoco come noi è una carbonara divertente vediamo come farla in un minuto grazie a tutti ed è un piatto questo che è anche un gioco è un gioco interattivo che fai in tutti i tuoi ristoranti tanto a verbania quanto a torino a piano 35 in tutti i ristoranti perché la cucina è anche giocosa quindi noi arriviamo fino a questo punto il piatto va in sala e il cliente lo chiude va a far la mantecatura quindi si sbriciola il prosciutto si prende la carbonara o co quindi la salsa o co si versa forchetta cucchiaio si va a mantecare e si assaggia un piatto profumatissimo grazie chef per essere stato con noi e a voi per averci seguito grazie a tutti grazie a tutti